Abbiamo, credo, due o tre mesi di avvio di grandi lavori o di conclusione di grandi lavori. La conferenza stampa di presentazione del progetto per il nuovo Pala Salerno è stata ieri l'occasione per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di ricordare gli altri interventi finanziati dalla Regione Campania e che si svilupperanno nei prossimi mesi nel territorio della provincia di Salerno. In primo luogo il pensiero del governatore è andato all'avvio dei lavori per l'allungamento della pista dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano. A fine luglio è previsto l'avvio del cantiere ed il presidente De Luca non ha mancato di sottolineare le ricadute economiche e turistiche che il rilancio dell'importante infrastruttura avranno sull'intero territorio campano. Ma riferendosi più strettamente invece al comune capoluogo, Vincenzo De Luca ha promesso di aprire Piazza della Libertà in un sabato di settembre ed ha annunciato l'avvio dei lavori per il nuovo Policlinico di Salerno. Parte a settembre anche il Policlinico di Salerno, partirà subito dopo un polo pediatrico europeo a Napoli, si completa Piazza della Libertà davanti al centro storico della città di Salerno. Stiamo davvero cambiando il destino di questa città, c'è da essere orgoglioso. Non è mancato poi il consueto appello civico del presidente della regione, dobbiamo aiutarci tutti a mantenere bene quello che viene realizzato. Ovviamente ogni volta che realizziamo belle opere, grandi opere, chiediamo che cresca lo spirito civico e il senso di responsabilità dei cittadini. Se vogliamo città europee, dobbiamo avere cittadini rispettosi delle regole e delle leggi.